...che si staccano da partiti molto grandi e poi però non riescono a fare niente. Sono preparatissimo. Una volta il PD era di centro-sinistra e aveva l'ambizione di rinnovare un'alleanza con forme organizzate a sinistra del PD, cioè come SEL. Adesso mi pare che il PD si sia spostato verso il centro rispetto ad alcune cose della scuola del lavoro addirittura verso destra e quindi lo spazio si è allargato naturalmente. E consideri un'altra cosa che io ripeto da anni inascoltato, che milioni di elettori del PD hanno votato grillo alle elezioni in varie occasioni. La scissione che oggi viene un po' usata come etichetta per noi è già stata fatta da milioni di persone, non essersene resi conto. È un problema. È un partito del governo, lo chiameremmo con una espressione gramsciana. È un partito che rappresenta il Presidente del Consiglio e questa situazione, le larghe intese, gli accordi di qua e di là, gli sbandamenti, ma di fatto ha lasciato spazio per molti di noi. Il problema non è riempire quello spazio, perché lo spazio è molto riempito di già. È organizzarlo e fare una proposta politica di governo per portarlo in Parlamento con figure nuove, rinnovate e però i valori di sempre.